Si è svolto il primo incontro della nuova Forza Italia a Caltanissetta in Contemporanea Nazionale, una conferenza stampa che ha anche visto la raccolta di adesioni al club Forza Silvio. Presenti Massimiliano Falvo, coordinatore ex PDL di Gela, il coordinatore regionale uscente di Grande Sud, Michele Mancuso, e il consigliere comunale, da sempre forzista, Oscar Raiello, A confermare l'adesione al partito dei fedelissimi di Berlusconi per Grande Sud, c'era tra gli altri Vincenzo Pepe di Gela, mentre per ex PD è intervenuto Pietro Milano. Assenti i consiglieri comunali Ilario Falzone e Sergio Averna. Anche qui a Caltanissetta abbiamo organizzato, come richiesto appunto dal nostro leader Silvio Berlusconi, la conferenza stampa, che ha coinvolto anche ovviamente Grande Sud e il PID, ossia i nostri futuri alleati, perché appunto Forza Italia sarà una grande famiglia, dove confluiranno sia Grande Sud sia le PID, sia ovviamente gli ex PDL, o ancora gli ex Forza Italia, che sono rimasti così come me all'interno di questo grande partito. Si sono appianate le divergenze degli ultimi giorni? Non sono stato delle divergenze, è normale che essendo all'inizio, non avendo ancora un organigramma, non sapendo chi c'è, chi non c'è, perché molte persone sono rimaste diciamo in una sorta di limbo, in attesa di capire cosa vogliono fare, dove spostarsi, se rimanere in Forza Italia, se andare via. Io non ho avuto dubbi sin dall'inizio, sono rimasto qui a servizio anche della Scrantina Nazionale, infatti ho agito il nome per conto di Forza Italia. Qualcuno pensava che io fossi impazzito, come se io mi fossi alzato la mattina, e mi lettevo a convocare conferenze stampa come se fosse a casa mia. Io mi repito un servitore del partito, sia a servizio del mio partito, che non mi servo del partito così come magari qualcun altro voleva fare o come ha fatto in passato. E a proposito di organigramma, il capogruppo e soprattutto i coordinatori, quali novità ci sono? No, per i coordinatori non c'è nessuna novità, noi aspettiamo indicazioni appunto da parte di Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda il capogruppo era giusto coinvolgere un pochettino tutti, c'è il collega Verna che è il presidente della quarta commissione, io ero capogruppo ma anche ormai visto come un referente della Scrantina Nazionale, c'era Ilaria Falzone che invece era rimasto privo di un ruolo per amore di ricompattare il gruppo, abbiamo deciso di appunto eleggere lui con la speranza che poi possa farsi carico delle responsabilità, perché il capogruppo non è soltanto una spilletta che si mette addosso ma comporta anche degli oneri come presenze alle conferenze stampa, presenze in segretaria nazionale.